per il calcio di serie D si è giocata la sesta d'andata per Cesena e Sant'Arcangelo 10 Savignanese e Francavilla ad 8 Forlì, Real Giulianova, Isernia Re Canatese 7 insieme a Monte Giorgio e Samorese a 5 troviamo Pineto e Iesina 3 punti per Olimpianionese, Campobasso e Bastese 2 Castelfidardo chiude a quota 1 l'Avezzano All'Ancellotta l'Isernia ha messo K.O. la Iesina Prima gioia casalinga per l'Isernia contro la Iesina che all'Ancellotta conquista l'intera posta in palio allungando la scia dei risultati utili 4 all'attivo una gara che è tutt'altro che una passeggiata la Iesina non gliele manda certo a dire a l'Isernia che però è concentrata e ben messa e riesce ad arginare il pericolo ed il primo che registriamo nasce da calcio piazzato Cecuzzi prende bene la mira ma Landi alza sulla traversa ci riprovano gli ospiti con Pasqualini che mette al centro e rovesciata ci prova Iabre e sfera alta al dodicesimo la conclusione dalla distanza di bordo non crea nessun problema a Landi sedicesimo cross di Iaboni riceve Romano che scarica verso la porta David ostacola ma non trattiene e palla in fondo al sacco e Isernia che passa in vantaggio al ventiduesimo ancora un calcio piazzato con bordo tiro raso terra che Landi para in due tempi al trentatresimo Magnarelli dalla distanza ancora una punizione per la Iesina con Landi che allontana di Pugni e ora la volta di Pasqualini con un cross dalla sinistra che va alto sulla traversa siamo al quarantaquattresimo il calcio di punizione di bordo vede ancora una risposta di Landi nulla di fatto nemmeno sulla ribattuta sull'uno a zero dunque si guadagnano gli spogliatoi e con le immagini di Danilo Scarinci siamo alla ripresa la Iesina continua a pressare l'Isernia dal canto suo non produce molto ma l'importante è mantenere il risultato vediamo i locali con questa conclusione centrale di Fazio che non crea nessun problema al diciottesimo combinazione Cristiano Iaboni il dieci va alla conclusione che è tranquillamente bloccata gli ultimi dieci minuti di gioco per intensità valgono l'intera gara con la Iesina che non ci sta al risultato e mette in atto un vero e proprio assedio ma l'Isernia non si lascia spaventare al trentanovesimo dall'angolo riceve Capone sotto rete ma nulla di fatto al quarantatresimo contropiede dell'Isernia ma arrivate alla conclusione c'è David in anticipo che annulla tutto al quarantaquattresimo ultima azione utile per la Iesina con Trudo che serve Pierandrei che però manda le stelle termina così l'incontro non c'è tempo per altro solo per l'esultanza dei biancocelessi che sono già con la testa proiettata al derby di domenica prossima E' terminata a reti inviolate la gara del Selvapiana tra Campobasso e Re Canatese Per il Campobasso è il secondo pareggio consecutivo con una prestazione discreta nel primo tempo lacunosa nella ripresa quando alla distanza emerge la Re Canatese di Alessandrini Mandragora getta nella mischia i quattro recenti acquisti ed opera una mezza rivoluzione rispetto a Iesi gioca Di Pierri al centro della difesa e Cogliati in attacco panchina per in prota arbitra il signor Vogliacco di Bari un'occasione a testa nei primi minuti dopo un primo e qualche spicciolo da Dalt trova una deviazione avversaria prima che la palla termini in angolo stesso destino un minuto e mezzo dopo per la conclusione di Borrelli respinta da Sposito Moviola all'ottavo quando Giacobbe in palleggio va a reclamare un presunto falo di mani di Nodari tutto regolare per il signore barese il campo basso inizia con il piglio giusto buona l'azione che al sedicesimo conduce ad uno sfortunato legno colpito con un bel destro da Palmieri ancora quest'ultimo al ventitresimo è abile a raccogliere un bel cross di Merio palla al lato ma corner non accordato ai rosso-blu come voleva Palmieri intorno al trentacinquesimo si fa male Diop costretto ad uscire in barella entra Danucci al suo posto dopo circa tre minuti di gioco fermo partita che cala di ritmo al quarantatresimo la palla gol più netta per i giallorossi con la scivolata di Merio che serve involontariamente Borrelli riattivo nel trovare il corridoio giusto per Sivilla che dribbla sposito prima di trovare a sua volta il rinvio di Spinelli che spazza l'area di rigore al quarantaseiesimo da Dalt batte il corner Giacobbe non ha un impatto giusto con la sfera a due passi da Piangerelli lo 0-0 dopo tre minuti di recupero è il risultato più fedele rispetto a quanto accaduto in campo con le immagini montate siamo nella ripresa dopo appena tre minuti si defila il montenegrino Olivieri che calcia incontrando una deviazione di Magri chiedono il braccio i giocatori ospiti ma le proteste vengono ignorate dalla terna arbitrale al decimo manovra rosso-blu organica con Giacobbe che smista verso Merio tiro sporco che termina a lato all'undicesimo Sivilla è lanciato a rete da Borrelli il tiro è a lato ma il tutto non vale per fuori gioco dell'attaccante ospite il campo basso fa fatica ad occupare l'area di rigore avversaria ed è molto spaccato l'area canatese manca di velocità Alessandrini decide di estromettere Sivilla dal diciassettesimo per inserire Palmieri replica di Mandragora con l'ingresso di Improta per Cogliati scarse le emozioni della ripresa al ventiquattresimo pallone tagliato di Palmieri dell'area canatese per poco non intercettato da Pera che stava arrivando alla mezz'ora discesa di Borrelli che mette in mezzo al centro Magri deve deviare in angolo per cacciare i guai dalla sua area di rigore entra anche secca al posto di un volitivo Palmieri applaudito dal pubblico di casa al trentaduesimo un'occasione a testa non sfruttata Giacobbe scappa a destra in posizione giusta ma l'assiste abbrancato da Piangerelli passa qualche secondo per un pallone lanciato a Palmieri che trova una buona respinta di Sposito grossa occasione da gol per i giallorossi che ora ci credono Borrelli pesca benissimo al trentaquattresimo Palmieri abile nel ritagliarsi il tiro risponde presente il portiere di casa la partita si anima improvvisamente trentasette minuti cross di Palmieri tutto solo Valvolo Borrelli che calcia fuori nel campo basso dentro Antonelli fuori Merio è il momento degli ospiti al trentanovesimo pallone dorato di Borrelli per lo stacco di Pera che non trova la porta per fortuna del campo basso al novantesimo angolo Didadalt che taglia tutta l'area di rigore senza essere deviato da nessuno comandati cinque minuti di recupero nei quali non succede nulla tranne l'ingresso di Tannoni al posto di Lunardini nella Recanatese alla vigilia del derby di Isernia Mandragora dovrà analizzare le condizioni di Diop Tommasini e Brannichi il campo basso muove con grande lentezza la classifica in attesa di tornare a incamerare i tre punti terzo pareggio consecutivo dell'Olimpia agnonese contro l'Avezzano al Civitelle finisce con un pareggio il terzo consecutivo per i padroni di casa tra l'Olimpia agnonese e l'Avezzano calcio una partita piuttosto equilibrata anche se granata hanno avuto molte più occasioni degli avversari ma andiamo alla cronaca il fischio d'inizio coincide con la prima occasionissima per i ragazzi di Mister Foglia Manzillo c'è Lamin per Sorgente che ci prova dal cuore dell'area ma Fanti con la punta delle dita manda in corner al sedicesimo è sempre Lamin a farsi insidioso con un tiro rasoterra che va fuori di un soffio l'Avezzano si fa vedere solo al ventesimo minuto con un tiro di Deramo dal vertice dell'area che Venturini è bravo a deviare in corner al ventisettesimo arriva la svolta Cerone servito da Schirone è libero dagli avversari imbambolati di insaccare indisturbato la rete dell'1-0 l'Agnone però non si lascia intimorire più di tanto e al 46esimo pareggia i conti così con Sorgente che tira proprio addosso a Fanti il numero 1 Abruzzese respinge e la sfera sulla ribattuta finisce tra i piedi di Gentile che è pronto ad insaccare il gol dell'1-1 finale con le immagini di Antonio Masi eccoci nella ripresa l'Avezzano sembra deciso ad allungare le distanze al quarto minuto ci prova Deramo dalla sinistra la palla è fuori di poco al tredicesimo è Pellecchia da fuori area che non inquadra lo specchio della porta al ventiduesimo ancora Deramo protagonista con un tiro dal limite dell'area che va alto l'Agnone che fino a quel momento sembra soffrire le incursioni abruzzesi tenta di reagire al ventitreesimo c'è De Zai per la Min che non riesce a trovare la conclusione per pochissimo un minuto dopo con un'azione fotocopia Fanti è bravo a parare al trentaduesimo il neo entrato Basilio Antonelli dal limite dell'area sfiora la traversa al trentanovesimo è scontro in area tra Niang e Besana i due in un impatto piuttosto violento riportano ferite alla testa che necessitano di punti di sutura per cui si decide di ricorrere alle cure mediche ospedaliere del vicino Caracciolo e i due ragazzi vengono portati via in ambulanza l'incontro si chiude con questa azione pericolosa di Conti al cinquantesimo che sgancia un bolidem a Venturini è pronto a tuffarsi ancora un pareggio dunque per l'Olimpiagnonese che deve assolutamente recuperare qualche punto in più per allontanarsi dai bassi fondi della classifica per l'Avezzano che la classifica la deve comunque smuovere per recuperare i punti di penalizzazione con cui è partito in questo campionato è comunque un punto d'oro Pallacanestro a Buenos Aires l'Italia Under 18 3 contro 3 impegnata nelle Olimpiadi giovanili gli azzurri allenati dal coach molisano Andrea Capobianco hanno staccato il pass per i quarti grazie al successo 21 a 12 contro il Kazakistan azzurri che poi hanno perso contro il Belgio 18 a 16 domani in campo per i quarti alle 20 e 50 italiane avversaria l'Ucraina vincitrice del gruppo C basket femminile di serie A2 Palermo Elite Roma 74 a 43 Spezzina Cus Cagliari 77 a 66 Selargius Pistoia 64 a 58 La Molise Anagampo Basso Forlì 75 a 47 Faenza Atena Roma 86 a 53 San Giovanni Valdarno Cessistica Orvieto 51 a 43 Citanova Marche Bologna 60 a 65 Umberti De Cessistica Savonese 74 a 65 La classifica vede a quota 6 Palermo la Molise Campobasso e Spezzina Seguona 4 Faenza Civita Nova Marche Umbertide e Selargius di seguito tutte quante le altre formazioni Ancora un referto rosa per la Molise basket Campobasso al Palavazzieri ha ceduto il Forlì La Molise Magnole a Campobasso ha calato il 3 terza giornata di campionato 6 punti in classifica dopo Atena-Roma e Pistoia anche il Forlì ha ceduto ai fiori d'acciaio Le Rosso-Blu non hanno lasciato scampo alle avversarie dalla palla 2 sino all'ultima sirena arrivando ad un massimo vantaggio di 32 lunghezze senza dover mai rincorrere le avversarie In avvio Coach Sabatelli decide di giocare l'opzione del quintetto fisico lasciando in panchina tra l'altro il plemeco del Porcu La risposta è subito efficace perché in un Amen Campobasso va 4-0 poi 9-3 e doppiando per la prima volta le proprie avversarie su 14-7 il più 9 con cui si chiude il primo quarto è il segnale di quella che potrà essere e sarà una serata in scioltezza per le Rosso-Blu Nel secondo periodo le Campobassane stringono ulteriormente le maglie in difesa solo 7 punti subiti ma anche in attacco batte un po' la testa con soli 14 punti meste a segno all'intervallo lungo però il margine in doppia cifra è 33-17 anche dopo il rientro dagli spogliatoi la gara non cambia al trentesimo sono 18 i punti di vantaggio della Magnolia 48-30 25 punti realizzati nell'ultimo periodo chiudono la gara sul 75-47 la seconda metà dell'ultimo quarto tra l'altro è anche l'occasione per vedere all'opera le giovanissime Rosso-Blu come Falbo San Martino e Mandolesi due punti per la giocatrice marchigiana che non sfigurano minimamente sul parquet dell'impianto di via Svevo qualche numero in attacco con Ciavarella top scorer di serata a quota 23 Bove doppia cifra con 14 punti e 13 rimbalzi di cui 8 in attacco e Smorto che è arrivata a quota 10 Atletica sabato nella sala Raucci del comune di Sernia si è svolta la cerimonia di premiazione dell'edizione 2018 del Corri la scuola premio assegnato agli istituti scolastici più numerosi presenti nel corso della Corri Sernia organizzata dalla nuova atletica in collaborazione con il comune l'assessorato allo sport della regione Molise primo premio un assegno da 1000 euro è andato sia all'istituto comprensivo Giovanni XXIII che all'Andrea di Sernia i premi come da regolamento potranno essere utilizzati per incrementare l'attività sportiva all'interno dell'istituto assegno di 300 euro per gli istituti tecnici Fermi Mattei e il liceo scientifico Maiorana Calcio d'eccellenza sesta d'andata Alifero Zeto 1 a 2 Matese Acli Campo di Pietra 0 a 2 Vasto Girardi Termoli 4 a 1 Venafro Rocca Sicura 1 a 2 Boiano Treppini Matese 1 a 0 Frentania Pietramonte Corvino 1 a 1 Riccia Gambatese 3 a 0 Real Guionesi Sesto Campano 2 a 1 16 punti per Vasto Girardi Boiano segue a 13 La Venafro insieme al Treppini Guionesi 12 a 10 Cerro Rocca Sicura 8 punti per Riccia Sesto Campano 7 Roseto Gambatese 6 punti Termoli Pietramonte Corvino Matese 5 4 punti per Acli Campo di Pietra e Frentania ancora ferma a 0 la Life Il derby del Fortore è andato al Riccia 3 a 0 sul Gambatese Tripla firma di Morsillo sul derby del Fortore che vira deciso sulla sponda riccese lasciando il Gambatese in mezzo al guado L'incipit di Morsillo è già al primo minuto di gioco quando tenta il suo tiro a giro con il destro ma non riesce ad angolare il pallone come vorrebbe Al 24esimo Nunziata viene chiamato a respingere l'azione personale di Esso Mo una sorta di campanellino d'allarme per i padroni di casa che rispondono nell'immediato cross di Di Criscio agganciato a volo da Morsillo che destabilizza Capobianco e va in rete Olimpia Riccia 1 Gambatese a 0 Al 32esimo Di Lallo prova a centrare l'angolino basso ma la palla sfiora il primo palo prova a rispondere Lomuscio che però non desta preoccupazione per Nunziata corre il 36esimo Guglielmi in aria crossa in caduta testa colpisce la palla col braccio ma per l'arbitro Matteo Matarese della sezione di Termoli è tutto regolare intanto subito dopo Morsillo si rende ancora una volta pericoloso con il suo tiro a giro ma Capobianco evita che il pallone si infili in rete dopo aver assistito ad un primo tempo schioppiettante ci si aspetta un crescendo ma nel secondo non è così se non negli ultimi minuti di gioco Monateba sfuggito alla retroguardia del Riccia si rende pericoloso di testa ma è troppo alto il suo tiro al decimo di Lallo appoggia per Pellegrino che tira col sinistro mette in angolo Capobianco il Gambatesa ci riprova questa volta con il calcio da fermo di Ruggero che pesca Monateba in aria e conclude addosso Annunziata al 32esimo Morsillo si langia verso l'aria che approva a servire Palmieri ma Capobianco intuisce e blocca l'azione oltre il tempo regolamentare Guglielmi vuol sorprendere Capobianco con un tiro in diagonale ma il numero uno del Gambatesa mette in angolo sulla bandierina scambio corto tra Guglielmi e Morsillo con il numero 10 che si lancia in slalom lasciando sul posto quattro avversari con Capobianco che non riesce ad opporsi e vede la palla entrare non è ancora finita calcio di punizione di Chiarella dalla sua metà campo che taglia fuori tutta la difesa del Gambatesa che pesca Morsillo solo davanti a Capobianco e lo supera con un pallonetto Riccia 3 Gambatesa 0 prima tipletta in carriera per il numero 10 di casa Alcolalillo di Boiano i Matesini hanno vinto di misura contro il Treppini il Boiano supera il primo esame di maturità e continua a volare in testa alla classifica insieme al Bastogirardi i Matesini domano il Treppini Sporting Matese grazie ad una magia di Diallo e dimostrano di essere squadra tosta per qualsiasi avversaria Alcolalillo dirige Costa di Catanzaro con le immagini di Loreto Cerasuolo vediamo come è andata il primo squillo è di marca ospite Napoletano non inquadra lo specchio della porta la risposta del Boiano è affidata a Scimò che serve in profondità Perrella Gallone c'è il gol dei padroni di casa è soltanto rimandato minuto 16 Scimò apre per Perrella che mette al centro Diallo si produce in una splendida acrobazia con palla che si insacca alle spalle di Gallone Boiano 1-3 Pini 0 passano 4 giri di lancette e Bifernini hanno la chance per il raddoppio Perrella parecchia sempre per Diallo che tira su Gallone il Treppini si salva gli ospiti non ci stanno minuto 25 si accende Napoletano che va via in percussione e conclude in diagonale sfera di poco fuori poco più tardi è lo stesso 10 ospite ad essere pericoloso in area bianco-rossa il Boiano si salva è un buon momento per il Treppini che al 38 va ancora alla conclusione con Napoletano Spadone fa il miracolo sulla respinta L'angellotti c'è incis che non riesce a concludere prima del riposo azione da Moviola in area ospite sul corner di Scimò Diallo gonfia la rete per la seconda volta costa però annulla la rete dei bianco-rossi nella ripresa il Boiano si presenta alla grande minuto 9 ripartenza da manuale dei padroni di casa con Diallo che solo davanti a Gallone spara incredibilmente alto il Treppini si va a vedere all'undicesimo con Napoletano che da buona posizione spedisce a lato gli ospiti vanno a caccia del pareggio e al 18esimo la bomba di Napoletano si stampa sulla traversa passano 6 minuti e il numero 10 ospite già monito commette fallo su Sabatino Costa gli mostra il secondo giallo e poi il rosso Treppini in inferiorità numerica a spingere di più è però la squadra di Piedimonte Matese che non sfonda anzi al 41esimo rischia la capitolazione Perrella assiste in maniera magistrale Turai che apre troppo il compasso e la sfera termina fuori a due minuti dal novantesimo c'è da notare l'espulsione di un dirigente del Boiano per proteste al triplice fischio di Costa e festa grande per i Matesini di Carmelo Gioffri sognare si può uno a uno tra Frentania e Pietramonte Corvino solo un pareggio per la Frentania nella sesta giornata del campionato di eccellenza e derby pugliese per i padroni di casa che ricevono nel deserto del comunale il Pietramonte Corvino per problemi di ordine pubblico il confronto viene giocato a porte chiuse c'è tra l'altro anche l'accordo e il rispetto da parte della dirigenza del Pietramonte Corvino passano dieci minuti e questo è il contatto il testa a testa fra Favilla e Tarantino avrà la peggio Tarantino Favilla tornerà in campo dopo tantissimi minuti con la testa bendata Tarantino invece sarà costretto con l'ambulanza a raggiungere l'ospedale di Sansevero per essere controllato si fa sotto e la partita riprende dopo un quarto d'ora si fa sotto il Pietra col tentativo di Marino con la gran parata da parte di Badanesi qui è Mucci che prova la fuga la conclusione non è delle migliori per Mucci che trova l'esterno e poi la sfera che termina sul fondo entra in campo l'ambulanza per tirar via Tarantino il gioco si ferma per un quarto d'ora il calcio di punizione disegnato da De Vivio con la gran parata da parte di Badanesi che in due tempi riesce a trattenere il pallone siamo al 36esimo ci prova poi con questa gran conclusione carica il destro ferro la palla si stampa sul palo e rientra incredibilmente sul rettangolo di gioco nelle battute finali del primo tempo su questo lungo lancio in profondità si coordina Carusillo la gran conclusione con il sinistro con la sfera che termina sul fondo battute finali del confronto in piena area di rigore questa girata da parte di Piacquadio di forza alla grande Badanesi riesce dopo che la sfera rimbalza in terra a cacciar via il pallone proprio all'ultimo unito del primo tempo questa grande penetrazione in area di Marino la conclusione Badanesi reattivo riesce a dirgli di no con le immagini montate da Alessandro Nardella siamo nella ripresa una ripresa che si vive con Favilla che non rientra in campo nonostante la benda la gara viene giocata prevalentemente a centrocampo e poi c'è il gol di Mucci che brucia tutti della retroguardia del Pietra Montecorvino e va a depositare in una rete il gol del vantaggio quello che permette alla Frentania di sbloccare il confronto sul retropassaggio difettoso da parte della retroguardia del Pietra Mucci si inserisce benissimo e va a realizzare il gol del vantaggio per i pugliesi che hanno l'occasione di chiudere il confronto minuto numero 26 Saracino costruisce pallone che arriva di forza in area di rigore Mucci si fa strada e poi con il sinistro quando deve solo appoggiare in rete calcia incredibilmente sul fondo e entra d'amore che disegna questa punizione la gran parata di Badanesi pallone che viene rimesso in mezzo Falco dice di no al minuto numero 33 all'inserimento di forza da parte del Pietra il gol è nell'area da parte degli avversari che trovano il gol praticamente allo stesso modo con cui l'aveva realizzato in precedenza Mucci ed è d'amore a bruciare con questo pallone il corto retropassaggio di De Stefano con il malinteso con il portiere Badanesi il gol del pareggio quello che rimette in careggiata il Pietra Montecorvino ha l'occasione però nel finale al 45esimo la Frentaneo con questo tiro di De Nicola che termina sul fondo ma in extra time un grandissimo tiro dalla distanza da parte del nuovo entrato Anthony Ferro si stampa sul palo torna in campo e d'amore non riesce a trovare il guizzo vincente per dare il là alla vittoria del Pietra finisce in pareggio 1-1 il derby fra Frentania e Pietramonte Corvino campionato di promozione Campobasso 1919 Trivento 1-0 Donchessagnone Baranello 1-1 Viccari Ripalimosani 2-1 Castelli Di Sangro Cliternina 3-0 Comprensorio Verano Ururi 1-0 Polisportiva Fortore Chieuti 1-2 Santeliana Aurora Capretese 1-2 Termoli Spinete 4-0 16 Aurora Capretese Comprensorio Verano 11 per il Termoli 10 Ripalimosani Campobasso 1919 a 9 troviamo Castelli Di Sangro e Trivento 8 punti per la Donchessagnone insieme al Chieuti 7 per Aurora Ururi Biccari Baranello e Spinete 5-0 Cliternina 3-0 Santeliana e Polisportiva Fortore Questo fine settimana alvia anche il campionato di prima categoria Prima categoria Girone A prima di andata Ala Fidelis Athletic Mignano 3-1 Forum Volturnia 3-4 Machia Bais Verano 2-3 Real Prata Pozzelli 1-2 Roccaravindola Torre Piccilli 1-3 Sporting La Pietra Masseria La Corte 1-2 Naturalmente a quota 3 le squadre che hanno vinto e quindi Ala Fidelis Torre Piccilli Volturnia Bois Verano Pozzilli Masseria La Corte Le altre che hanno perso Tutti a 0 Girone B Questi risultati Adax Toro Quartiere Campobasso Nord 0-1 Carpinone Matrice 4-0 Machia Al Fortore Pesche 1-2 Miranda Atradico San Pietro In Valle 2-2 Real Gildone Rinascita Molise 0-1 Yelzi Campobasso Calcio 1-1 Riposato Il Carovilli A quota 3 Troviamo Carpinone Pesche Rinascita Molise Quartiere Campobasso Nord Ad 1 San Pietro In Valle Miranda Sporting Yelzi Campobasso Calcio Le altre Fermi A 0 Campomarino Maronea 3-3 Casali Dauni Sant'Angelo Limosano 2-1 Difesa Grande Porticone Angelina Colletorto 0-1 Calena Polispetacciato 0-0 Torre Maggiore Calcio Guardia Alfiera 1-1 Turris Fiammalarin 8-0 3 punti Per Turris Casali Dauni Angelina Colletorto Ad 1 Troviamo Campomarino Maronea Torre Maggiore Guardia Alfiera Calena E Polispetacciato Le altre 3-0 Vi segnaliamo Un appuntamento Nella location Di D'Amico Arreda Sulla statale Trignina A Civitanova Del Sannio Continuano Gli appuntamenti Dedicati al tango Domenica 28 ottobre Ospite L'orchestra Argentina La Juan D'Arienzo Proprio Nello showroom Del Mobilificio D'Amico Arreda Vi ricordo Anche L'appuntamento Di questa sera Alle 21 Molise a calci Insieme a Gianni Bruno Erika Rico Avremo ospiti Commenti E naturalmente La nostra Moviola Molise a calci Alle 21 Sempre e solo Su Telemolise E tutto Buon pomeriggio E naturalmente 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 Grazie a tutti